Io ero nel gruppo Slegare la mobilità, che in particolare si occupava dei giovani dell'università e del mondo dei lavori o comunque dell'entrata nel mondo del lavoro. Slegare la mobilità era uno slogan proprio per indicare che c'è una certa necessità nell'aiutare i giovani e nel sostenerli nel momento delle scelte importanti, cioè quelle dell'università e dopo l'università quelle del lavoro. Lo spirito, secondo me, il clima è stato molto positivo perché si è visto che proprio l'interesse era tanto e già prima di partire l'impressione era stata quella di una grande aspettativa da questo incontro e da questa settimana sociale. E' stato positivo il confronto, è stata positiva la partecipazione perché ognuno ha potuto dare del suo anche grazie a questi gruppi di lavoro. Si è condiviso insieme, indipendentemente dalla provenienza geografica, quindi dal nord e dal sud, dove sappiamo benissimo che ci sono varie differenze, anche e soprattutto a livello sociale e di istituzioni o anche nel mondo del lavoro, proprio di condivisione delle idee e dei progetti da poter realizzare sul proprio territorio.